Atletico Fiumefreddo in festa, al novantatresimo il gol di Ruggeri sancisce la definitiva promozione dell'Atletico Fiumefreddo. Grande gioia e urlo liberatorio sul finire della gara per mister Salvatore Pennisi. Pericolosissimi fin dalle prime battute la squadra del Fiumefreddo, che trova solamente in pieno recupero il gol che consegna la definitiva promozione della squadra. Battuta di misura quindi l'Orsa Barcellona. Per gli uomini di mister Pennisi un meritato riposo con una vittoria che profuma di promozione.